salve pistoleros quale tra queste quattro pistole a salve vi piace di più vi parlerò brevemente di queste quattro pistole a salve e andremo a vedere le rispettive prove di sparo poi fatemi sapere nei commenti quale preferite tra queste quattro oltre ad invitarvi a mettere se volete un bel like per aiutarmi a divulgare questo contenuto ed iscrivervi attivando anche la campanellina per non perdere i prossimi video vorrei mandare un saluto a due miei fan dark angel e roberto faedi ho scelto queste pistole a salve perché ognuna di queste ha una caratteristica particolare la bruni 92 che è affidabile grande e raffigura molto bene la 92 fs la bruni single action che praticamente la replica della famosissima colt 1873 la bruni p4 che sarebbe la replica della beretta px4 che praticamente ha un fusto polimerico semi automatica ovviamente come tutte le pistole a salve semi automatica di libera vendita con la classica chiusura a massa che però comunque replica un'arma abbastanza importante per la bretta anche se questa è una replica della bruni ci tengo a sottolinearlo e la bruni 84 che sarebbe la replica della beretta 84 anche questa ha fatto nella sua versione vera ha fatto parte della storia dell'armeria italiana in quanto la la serie 80 la bretta serie 80 è stata largamente usata per quanto riguarda i corpi di polizia municipale iniziamo dalla bruni 92 io la trovo la replica di un'arma sia moderna che classica perché ancora largamente utilizzata tra le forze dell'ordine ancora è stata aggiornata se non sbaglio correggetemi se sbaglio l'ultimo aggiornamento è la 92 x che una versione sportiva per tiro sportivo quindi rappresenta la storia dell'armeria italiana ma una storia che ancora continua questo ovviamente il modello a salve e in sama ed è molto particolare il modello della bruni perché per quanto riguarda le forme in sé che rappresenta la beretta 92 fs ma per quanto riguarda le proporzioni la trovo molto più vicina ai modelli 92 s e 92 sb perché perché è vero che qui come la 92 fs abbiamo un sottoguardia di tipo combat però per le dimensioni del sottoguardia è molto più simile alle dimensioni del sottoguardio ponticello dei modelli 92 s e 92 sb funzionamento semi automatica ovviamente essendo un modello a salve la canna deve essere fissa quindi ha un sistema di chiusura a massa ogni colpo sparato il carrello arretra automaticamente eliminando il bossolo vecchio e ritornando poi carica il camera il bossolo nuovo ed è dotata anche di old open andiamo a sentire come spara bruni single action praticamente la replica della pistola western colt 1873 andiamo intanto a vedere se tutte le camere del tamburo sono vuote sono vuote e funziona in singola azione ovvero che premendo il grilletto con il cane a riposo non succede nulla per renderla pronta al fuoco oltre a caricarla dobbiamo sempre armare il cane ad ogni sparo altrimenti non ripete poi un eventuale colpo andiamo a vedere la la sua prova di sparo bruni p4 la replica della beretta px4 allora semi automatica ok è tutta è tutta è tutta la del tutto scarico funziona sia in singola che in doppia azione la doppia azione per chi non lo sapesse nelle semi automatiche serve per poter avere il colpo in canna comunque la pistola in sicura e se dovesse servire di utilizzarla quanto più velocemente possibile basterebbe semplicemente tirare sulla sicura e fare fuoco nel modello a salve abbiamo ok come quella vera il fusto in polimero ma a differenza di quella vera sulle pistole salve abbiamo poi la parte superiore quindi carrello e canna e oltre ad altre parti meccaniche che sono in sama andiamo a vedere come spara bruni 84 replica della beretta 84 allora semi automatica funzioni sia in singola che si che è in doppia azione e nel per quanto riguarda la vera beretta 84 tanti dicono no ma è la 92 rimpicciolita no è una 70 ingrandita è una beretta 70 ingrandita perché la 92 vera funzionava con il sistema di chiusura a blocchetto oscillante mentre la vera beretta 84 come la beretta 70 aveva il sistema di chiusura a massa ovvero con la canna che restava ferma mentre il carrello arretrava per per espellere poi i colpi già sparati e poi avanzando caricava camerava poi un colpo nuovo la sicura è un po simile a quella delle colte 1911 praticamente è fissata sullo all'altezza dello sperone della pistola tirandola sopra disconnette praticamente il grilletto dal cane andiamo a vedere come spara che dire sono quattro pistole a salve che a me piacciono molto ma ora spetta a voi farmi sapere nei commenti quale tra queste quattro preferite vi vorrei consigliare sulla piattaforma blu il gruppo numero uno in italia sulle pistole a salve chiamato appunto armi e pistole a salve seguitemi anche su insta anthony trattino basso yt trattino basso 92 se il video vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti un caro saluto e al prossimo video ciao